Ehi Mercedes! Sì? Mi stai facendo un milione d'euro perchè sono a 2DMA e mi ha già accattato 10 macchina! Non ti voglio dire di più! Ehi Mercedes! Ehi Mercedes! Ripetere, prego! Mi stai facendo mannarsi i soldi! Mi stai facendo 10... Ehi Mercedes! Mi stai facendo 10 macchina a 2DMA! Mi stai facendo un milione d'euro, dai Gian Force ci si ven aga da un minero lui! Ehi Mercedes! Mercedes! Mi stai facendo un soldi ůlo! che chiamo che chiamo che chiamo che chiamo che chiamo che chiamo che c'è che chiamo che ne so che succede perché c'è C'è...